Per chi si fosse collegato in questo momento abbiamo con noi Alberto Fornari che è docente, formatore, nonché sociologo appunto, laureato in sociologia e oggi parliamo di che cosa? Parliamo di autostima, motivazione, parliamo di questa materia che in questo momento è importante quanto mai perché il periodo che abbiamo passato, adesso le statistiche, i dati dicono che stiamo uscendo da questa recessione, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, però un po' tutti siamo in questi anni andati nella depressione, nella tristezza, nello sconforto, nella mancanza di speranza nel vedere la possibilità di un nuovo lavoro piuttosto che di ricrearsi una vita, che cosa succede così in generale nella gente in questo momento? Chiedo a te, ci diamo del tuo insomma, visto che ci conosciamo. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, sì appunto io mi occupo di formazione e coaching, due discipline ben distinte. Due lavori sia col privato ma anche con le aziende. Sì, sia col privato. Nel coaching si chiama life quando l'obiettivo è legato alla persona, business quando l'obiettivo è legato all'azienda in sé. Nel campo della formazione mi sto dedicando parecchio alle aziende, parecchio agli enti a livello organizzativo e non solo, quindi a livello motivazionale. Devo dire che in questi ultimi mesi ho intuito, ho percepito che lo stesso imprenditore comincia a capire che ci deve essere un cambiamento a livello motivazionale. E in questo abbiamo anche preparato delle slide che tu ci hai portato con il dottor Alberto Fornari, motivazione in tempi di crisi, perché poi tu chiaramente fai dei seminari, insomma dei corsi, eccetera, eccetera, andiamo avanti. Allora, leggiamo qua intanto, esistono imprenditori che hanno capito che occorre cambiare, che il sistema motivazionale portato avanti sino ad oggi non è più attuale, se vogliamo invertire la tendenza occorre rivederlo, ecco, partiamo da questo punto, che cosa occorre rivedere? Ecco, aspettiamo a mandarle altre slide, se possiamo tornare in studio. Che cosa occorre rivedere oggi nel sistema lavoro? Beh, intanto faccio una premessa, crisi, crisus del greco, al di là di tutte le accezioni che abbiamo dato nel tempo, significa passaggio, per cui si dice colui che si attrezza in un passaggio, che direi quasi opocale, non solo economico ma sociale, probabilmente ha buone chance per essere vincente nel futuro. Quindi motivazione, motivazione fino ad oggi, fino a poco tempo fa, il sistema motivazionale, giusto per essere abbastanza chiaro e sintetico, era essenzialmente basato sul bastone e la carota. Cosa vuol dire bastone e la carota? vuol dire ti premio solamente se fai. Quindi la cosa che è importante per l'azienda è che il dipendente, il collaboratore in qualche modo raggiunga degli obiettivi, fatto fermo, che potrebbe essere premiato con passaggi di categorie, piuttosto che benefit e quant'altro. E come mi pare c'era anche un'altra slide che diceva questo, possiamo andare avanti con l'altra slide, forse era questa, va sicuramente cambiato da parte dell'impresa, ma l'altra si è cambiato anche noi stessi, se vogliamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Ovviamente noi facciamo parte dell'impresa e come tale il cambiamento parte dall'individuo, indubbiamente, può essere l'imprenditore ma lo stesso collaboratore. Siamo avanti con l'altra slide, eccolo qua. Sino ad oggi le imprese hanno sempre basato i loro sistemi motivazionali sul metodo bastone e la carota, un metodo che nel corso dei secoli è passato dall'essere prevalentemente spostato sul bastone fino ad arrivare ai giorni nostri, dove al contrario è fermamente concentrato sulla carota. Che significa? È curiosa questa cosa, fa un po' sorridere, no? Bastone e la carota, questa diceria, questo detto antico. Quindi è stato un periodo di bastone, tu dici in questa slide. Sì, anche se è un termine piuttosto rude, se vogliamo, ma... Fa capire la situazione, ecco. Che il merito, se mai si può parlare di merito, è premiato solo con il fare, con la volontà. In un'epoca, peraltro, dove era la quantità che faceva la differenza più che la persona, no? Già la dopoguerra ai tempi nostri eravamo rasi al suolo, la produzione, anche per mancanza di concorrenza e dal focus essenziale. Ecco, per parlare di carota, farei un passo indietro, giusto con la slide successiva, richiamando quella che è la scala dei bisogni, la scala di Maslow. Allora, vediamo le altre slide che ci portano a questa, che è molto interessante. Per spiegare come si innesca questo metodo nella soddisfazione dei bisogni dei propri collaboratori, è quello che fare un passo, appunto, indietro, tu dici, dare un'occhiata alla scala dei bisogni di Maslow. Questo Maslow, che si cita in tanti corsi, nella formazione, oggi ci spiega un po' che cosa riguarda. Vediamo anche l'altra slide che riguarda la famosa piramide, mi pare, di Maslow. Secondo la sua teoria, appunto, di Maslow, ogni essere umano soddisfa i suoi bisogni, partendo da quelli base, ed una volta soddisfatti questi, si sposta su un gradino successivo. Vediamo la piramide, vediamo la piramide, che è quella più importante, eccola qua. Questi sono i bisogni di Maslow. Che significa Alberto Fornari? Adesso Maslow, che è uno psicologo, che nel 1956 coniò questa scala, ci sono dei bisogni primari di cui non possiamo fare meno e ci sono dei bisogni secondari di cui possiamo tranquillamente, o meglio, potevamo farne meno. Cosa vuol dire questo? L'essere umano arriva a questo mondo che ha bisogni fisici e una volta soddisfatti, i bisogni fisici sono semplicemente sussistenza, mangiare, bere, una volta soddisfatti passiamo ai bisogni di sicurezza. Bisogni di sicurezza vuol dire creare un nucleo, nella fattispecie una famiglia, che gli dia in qualche modo una sicurezza, anche per uno scambio di ruoli. Come si diceva un tempo, il genere femminile si occupa di determinate mansioni, e parlo ovviamente di molti, molti anni fa, e il genere maschile si occupa di altre mansioni, proprio per un discorso di genere fisiologico. Quindi si parte dalla base della piramide? Si parte dalla base della piramide per risalire ai bisogni sociali. Fisici che sono mangiare, bere, dormire, tutto ciò che riguarda il corpo umano, tutto ciò che è tangibile, così come il bisogno di sicurezza, tutto ciò che è tangibile, nella sicurezza ci mettiamo pure il denaro, quindi lavorare per produrre affinché ci si possa sostenere. Per poi arrivare al terzo scalino, eccolo qui, dove è fondamentale il bisogno sociale, il genere umano, prescindere dal femmina o maschio, tende proprio in modo istintivo, in qualche modo ad occupare delle posizioni, ad ambire, ad occupare delle opposizioni, quindi il senso di appartenenza. Ecco, fino a qui possiamo dire bastone, inteso come tutto ciò che è tangibile, tutto ciò che è pratico, sostenibile, quindi nella misura in cui ritorniamo all'impresa, il bisogno sostanzialmente era di tipo materiale, era chiaro che la motivazione passava da lì, indubbiamente. Oggi ci stiamo spostando sempre più, come dicevamo prima, in questa scala, verso la carota. Cosa vuol dire? Abbiamo bisogno di stima. È evidente che nella misura in cui... Quindi tu dici, visto che abbiamo superato quel periodo, appunto, ti riferivi al dopoguerra, dove il mangiare era la cosa primaria, l'obiettivo primario, oggi in qualche modo tutti noi, la pasta asciutta, il panino, l'abbiamo, chi più chi meno purtroppo, però diciamo siamo passati invece a quello che è il bisogno ulteriore, in questo caso della socializzazione, dello status symbol, vuoi il telefonino, vuoi queste cose qua. Sì, in questa fase è evidente che nella misura in cui la cultura ha proposto un bisogno sostanzialmente pratico, materiale, ok? L'imprenditore, per poter ottenere di più, ha ottenuto un livello tale dove lo stesso collaboratore rischia la zona di comfort, mi spiego meglio, quando io ho tutto, indubbiamente tendo a sedermi, anche in modo inconscio, se vogliamo. Quindi collaboratore, che nel frattempo potrebbe essere cresciuto all'interno dell'azienda, in qualche modo si propone come leader di tipo autoritario. È chiaro che la leadership autoritaria utilizzata in un sistema dove oggi la richiesta forte e la stima non funziona, quindi c'è una sorta di evoluzione che peraltro molte imprese stanno cominciando a capire così come gli enti, verso il motivare le persone non più tramite il materiale, fine a se stesso, ma tramite il riconoscimento e il merito. Parola meritocrazia tanto abusata e poco utilizzata, ma che dovrà essere indubbiamente il nodo per poter uscire da una situazione di impasse. Quindi per i prossimi anni si punterà molto sulla meritocrazia. Esatto, non si tratta di una crisi tipicamente economica, ma si tratta di un passaggio tipicamente strutturale che abbraccia l'individuo come componente forte, che all'interno della sua stima cresce, così come l'impresa che ne è pure una conseguenza. Quindi oggi si fa fatica, tu dici, a trovare dei leader, sia a livello economico, politico e tant'altro, nella società in generale, per questa mancanza di autostima in realtà. Esattamente. È così. Più che altro, come tu sai, il leader è riconosciuto dalla base, per cui non tanto si fatica a trovare dei leader, ma si fatica a vedere dei leader, proprio perché nella logica stiamo passando da un sistema che è completamente rivoluzionato, che io in gergo ho chiamato bastone carota. È evidente che colui che si attrezza in questa direzione, sicuramente la grossa faticacia è questa, in quanto è semplicemente un passaggio culturale, ok? Probabilmente in futuro, e ne abbiamo già degli esempi, ma anche nel Bresciano può essere vincente. Una persona, un consiglio che puoi darci, che puoi dare ai nostri amici a casa, da cosa deve iniziare? Per cambiare, per ritrovare se stesso dopo, diciamolo, appunto questo periodo un po' così confusionario. Deve iniziare da se stesso, paradossalmente, non dico niente di nuovo, dicendo, e non scomodo Gandhi o chi per lei, dicendo che il cambiamento parte dall'individuo. È chiaro che se la mia percezione è quella di colui che cambia in funzione di un domani migliore, probabilmente, probabilmente posso ottenere, se non in questa generazione e nelle prossime, sicuramente un cambiamento. Questo cosa significa? Leva forte, come spiega il termine motivazione, no? Portarsi al muoversi, agire per muoversi e definire gli obiettivi. Obiettivi che nel caso di una persona deve essere un obiettivo personale, ok? Nel caso di un'azienda deve essere un obiettivo professionale. Obiettivi che in qualche modo, quando si scatena questo sistema collaborativo, devono essere in qualche modo condivisi. Quindi il sistema forte, così come si dice in gergo, cosa che gli americani e gli anglosassoni, come si dice sempre, già attuano, è proprio il sistema partecipativo all'azienda. Io spesso, quando mi ritrovo a formare anche i ragazzi giovani, fra le altre cose appunto faccio formazione agli apprendisti, non mi becco degli insulti su questa cosa qui, ma poco ci manca, in quanto uno dice, vabbè, d'accordo, però manca la sostanza, manca la politica, manca la finanza se vogliamo. È evidente che quando il dito lo spostiamo verso l'esterno probabilmente i problemi aumentano, o quantomeno si vive una situazione statica, ok? Aspettando che qualcosa cambi. Che gli altri cambino e facciano qualcosa per noi. Ok, esatto. Mentre invece tu dici, partiamo da noi stessi, quindi non diamo colpa, se andiamo a cercare lavoro, faccio un esempio molto pratico, insomma che capita a tanta gente in questo periodo, dire, so, è la colpa dell'agenzia, è la colpa dell'industria, è la colpa della fabbrica, è la colpa del lavoro, ma sì, va bene, la situazione è quella, però io devo migliorare me stesso. Esattamente. È chiaro che poi si scatena tutto un meccanismo che mi porta alla scelta. non è detto che il cambiamento fatto da una parte sola porta i risultati, ma se cambio io forse posso anche vedere che dall'altra parte c'è qualcosa che non va e quindi posso anche a mia volta bussare a qualche altra porta, perché come dico sempre io fa parte di una crescita personale sostanzialmente. Non posso giocarmi un'arma in più o meno, un valore aggiunto, se miglioro me stesso. e l'angolazione da modificare. Paradossalmente la crisi diventa un'opportunità. Fine delle certezze è opportunità a mettersi in gioco. Poi i nostri politici usano e abusano spesso il termine inventarsi un lavoro. Io preferisco dire trovare un talento che comunque noi abbiamo in qualche modo possiamo mettere a disposizione. Puntare sul nostro talento. Questo possiamo dire in conclusione a questo discorso che c'è. Che c'è. Ognuno di noi ha un talento. Spesso non lo vogliamo vedere per cose altre, non ultimo quella economica, ma c'è sicuramente. Bene. Io ringrazio allora Alberto Fornari per questa breve presentazione. Sono una materia che ci vorrebbero dei giorni, delle ore, dei seminari per riuscire chiaramente. Però oggi così abbiamo imparato intrapreso un attimo questo percorso di conoscenza. Qui la domenica in famiglia poi ti inviteremo in altre occasioni. Grazie. Perché appunto per noi è importante con professionisti, con esperti. Molto volentieri. Dare dei consigli ai nostri amici a casa e ai telespettatori per un miglioramento perché questo è un po' la nostra mission. Molto volentieri. Grazie Fabio. Grazie ancora dottor Alberto Fornari.